cos'è a lui? è una festa, una festa dove c'è se maschera dove c'è se veste ma non come il carnevale tutti allegri ma una cosa tutta cupa con ste maschere tutte brutte tutte con le zucche e i dolcetti scherzetti cose o brubbiose come direbbe qualcuno questa diciamo che in italia non è che festeggiava prima perché era proprio è italiana sta festa, questa festa si si celebra in australia in canada in germania irlanda regno unito stati uniti paesi scandinavi nuova zelanda oppure altre parti però questa è una festa italiana è brutto perché noi a festeggiamo pure in italia e questo è un piccolo cortometraggietto sulla festa di halloween ma che stai a pensare? eh sto a pensare che da quando mi sono fatto l'intervento alla faccia clarinda mi ha detto che non mi ama più e non ti preoccupare qua su tutti ma... ma tu come sei morto tu? eh io andavo a 400 all'ora con la mia ferrari e... e sono andato contro un albero morta... oh io stavo a pesciare dietro a quell'albero mi ha fatto morire pure a me beh pronto? oh adesso è tutto a posto no no stasera faccio una pizza con due amici miei si infatti tra un po' vado no ma ti pare che ora vado a fare un certo scherzetto a lui stavo leggendo qua una cosetta di elettronica no no vado vado a una pizzeria qua vicino no ma se no no guarda io queste cose qua che nel 31 vado a fare quello che se veste se veste se veste di Halloween io non ci credo ma ma ti pare dai no no ah senti ma qua eh Marta come è andata a finire poi ah no no ma io no alla fine ho detto no non mi fidanzo più no non mi va poi sempre sempre addosso a lei sempre appresso vado a comprare questo quindi dice meglio rimanere single hanno fatto anche un libro adesso si si no comunque niente niente di che ah quindi tu vai stasera da lei così ah ok ok e mi travestite pure bello molto bello molto bello ah ecco ma mi pare che adesso magari al fantasma dentro qui è tutto chiuso poi ma mi pare che poi queste cose in cerchieto no eh vabbè dai si 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 se sentimo certo certo si si vabbè dai va a festeggia con quell'halloween queste feste straniere non ci capisco mai niente vabbè ciao ciao adesso diciamo diciamo e questo sta sempre a dormire oh 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 Quanto se ando, oh mamma, C&E, dai che stasera ci si diverte, ci si diverte e dai alla grande proprio, alla grande